Dal Vargelo secondo Giovanni Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con una nuova rubrica intitolata appunto come menzionato poc'anzi Dal Vargelo secondo Giovanni Di che cosa parleremo in questa rubrica? Ovviamente come avrete intuito parleremo del VAR ragazzi Parleremo del VAR e parleremo in maniera molto dettagliata degli episodi a favore e o a sfavore di una squadra in particolare Oggi risponderemo a questa domanda ovvero la Lazio è stata penalizzata quest'anno dal VAR? Risponderemo a fine video perché durante il video analizzeremo tutti gli episodi a sfavore e o a favore della stessa Lazio In queste ultime giornate e non solo Quindi, bando alle ciance ragazzi, andiamo qui Partiamo dal derby ragazzi, partiamo dal derby Il derby di campionato che è stato giocato il 18 novembre credo 18 novembre, partita finita 2-1 a favore della Roma Allora, il fatto è che sì, i Laziali si stanno lamentando, in questo sottoscritto, degli episodi arbitrali a sfavore dei Bianco Celesti Però gli altri tifosi hanno anche sottolineato gli episodi a favore della stessa Lazio Noi oggi cercheremo di trovare gli episodi a favore della Lazio Io personalmente dopo un giorno di ricerche non ci sono riuscito Non sono riuscito a trovare gli episodi a favore della Lazio Qui, in Roma-Lazio, ci potrebbe essere un episodio a favore del Bianco Celesti Ovvero il calcio di rigore non dato alla Roma per fallo di mano di parolo in area di rigore da calcio d'angolo Allora, bisogna anche considerare ragazzi il metro di giudizio applicato dagli arbitri quest'anno Questo rigore non è stato fischiato? Non è stato fischiato neanche quello di Mertens a Crotone Più semplice così ragazzi Questo non è calcio di rigore? Giustamente non è stato dato neanche il calcio di rigore al Crotone contro il Napoli Però se mi dite, se mi dite che quello di Crotone è calcio di rigore Allora è calcio di rigore anche questo Il risultato non cambia, la Roma comunque ha vinto Mentre però il Napoli non avrebbe vinto quel calcio di rigore Attenzione Poi, il calcio di rigore dato alla Roma Che alla fine ha trasformato Perotti Spiazzando Stracoscia Secondo me ragazzi il calcio di rigore c'è Anche se i replay non sono al 100% chiari Qui però c'è da valutare una cosa Ovvero, Kolarov che non protesta Perché qui Kolarov mentre va a terra Appoggia la palla indietro a Perotti Che ha il tempo di stoppare il pallone E poi l'arbitro senza esitare fischia il calcio di rigore Quindi Perotti non può fare la giocata Quando l'arbitro fischia il calcio di rigore Kolarov non sta protestando Ma bensì, se guardare attentamente Sta guardando Perotti Aspettando la sua giocata In un secondo momento Kolarov si gira verso l'arbitro Quando però l'arbitro ha già fischiato calcio di rigore Allora, Kolarov È Kolarov che non protesta Questa è mia nuova Questa è mia nuova Tra l'altro Kolarov ragazzi non cade in avanti Perché con la scivolata di Bastos Kolarov doveva cadere in avanti Invece no Kolarov cade indietro Cade indietro E passa la palla a Perotti Mentre passa la palla a Perotti Io considererei questi aspetti ragazzi Ovvero Kolarov che Invece di cadere in avanti Cade all'indietro Chissà come E che non protesta Anche se secondo me Il calcio di rigore si può perfettamente dare Perché insomma L'intervento di Bastos è davvero suicida Però comunque Questo È aperto a interpretazioni ragazzi Lazio-Frentina Il fallo di Caicedo su Pezzella Secondo me ragazzi Bisogna essere obiettivi Quello lì è calcio di rigore È calcio di rigore Anche se Anche in questo caso I replay Non sono al 100% chiari Non si capisce se la gamba di Caicedo Si trova Sopra la gamba di Pezzella O viceversa Non si capisce se il pallone Viene toccato da Pezzella Oppure da Caicedo Comunque Fatto sta Che un intervento così Al 93 Quando sta in vantaggio 1-0 In area di rigore Non lo fai Non lo fai Caicedo di merda Poi però si è riscattato Facendo il gol al 93 Contro la Sampdoria Quindi godo Ma ritorneremo su questo Più tardi ragazzi Ritorneremo su questo Più tardi Perché anche se non si capisce Se questo è calcio di rigore O no È molto simile Al rigore non dato Alla Lazio Contro la Juventus Spostiamoci a Lazio-Torino Vabbè ragazzi Di questo Non ho bisogno Di dire niente ragazzi Questo è Diciamo che è Agli occhi di tutti Oppure alla faccia di tutti Come si dice in italiano Comunque è ovvio Che la partita è stata Nettamente rubata Calcio di rigore Non dato da Lazio Ed espulsione ingiusta A Immobile Un primo tempo Che quindi è finito 0-0 Con la Lazio in 10 Contro 11 Mentre poteva finire Perfettamente Seguendo le regole 1-0 per la Lazio Con gol potenziale Da calcio di rigore E 11 contro 11 Partita completamente diversa Proseguiamo Inter-Lazio 0-0 Perché Inter-Lazio 0-0 Perché la Lazio Era stato dato Un calcio di rigore Poi annullato Con il VAR Per fallo di mano Di Skriniar Allora Secondo me Il calcio di rigore Andava giustamente annullato Perché la palla Prima tocca una parte Del corpo E poi il braccio Di Skriniar Che credo fosse In scivolata Poi vi metto Insomma i replay Qua o qua Il calcio di rigore Giustamente è stato annullato Quello non è calcio di rigore Però Però Se andiamo a controllare Nella scorsa giornata Ragazzi A un Milan Chievo Lo stesso identico Calcio di rigore È stato dato al Milan È stato dal Milan Poi però Sbagliato Ora è che sì Quindi comunque Il risultato non è cambiato Ma mi dovete spiegare Perché Il rigore Per la Lazio È stato dato Poi è annullato Con il VAR Mentre quello con il Milan Non è stato dato E poi è stato dato Con il VAR Qual è la differenza Cioè io Queste sono le cose Che veramente Non riesco a capire Perché L'intervento è lo stesso Ragazzi Il braccio Comunque è staccato Dal corpo Però il pallone Prima tocca una parte Del corpo Poi il braccio Quindi comunque Involontario Mi dovete spiegare Perché contro l'Inter Lo avete annullato Mentre invece contro il Chievo Lo avete dato Vabbè Pazienza Proseguiamo Proseguiamo Qui vedi I metri di giudizio Completamente buttati al cesso Così Vabbè Comunque Spal Lazio Vabbè comunque È partita vinta Dalla Lazio 5 a 2 Quindi C'è bisogno che ne parli Mila Lazio Beh ragazzi Considerando che la Lazio È l'unica squadra Che nonostante il VAR Ha subito un gol di mano Questo è abbastanza sconvolgente Anche se nessuno In quel momento Aveva visto Aveva notato Diciamo Il tocco di braccio Di Cutrone Si è notato Soltanto in un secondo momento Però Non toglie il fatto Ragazzi Che la tecnologia Serve proprio Per evitare queste situazioni Serve per evitare Questi errori Eppure Non è stato utilizzato Neanche in quella circostanza Ecco Chissà che cazzo Stavano facendo Quei due Lì sopra Stavano facendo merenda Non lo so Comunque Chissà come la partita Sarebbe andata Ecco Se l'arbitro Avesse annullato Il gol di Cutrone Probabilmente La Lazio Non avrebbe neanche reagito E segnato quindi Il gol di Marusic Probabilmente La partita Sarebbe stata Lo stesso La stessa Proseguiamo Quindi non mi sento Di dire penalizzata In questo caso Anche se Lo ripeto La Lazio è l'unica squadra Che ha subito Un gol di mano Nonostante ci siano Otto televisori Sassuolo-Lazio Perché Sassuolo-Lazio? Perché come ho detto prima Se i laziali Si stanno lamentando Per episodi Sfavorevoli Gli altri tifosi Stanno sottolineando Gli episodi A favore Della Lazio Come il calcio di rigore Dato alla Lazio Contro il Sassuolo Ragazzi Il calcio di rigore Dato alla Lazio Contro il Sassuolo È lo stesso Del calcio di rigore Dato al Milan Contro il Chievo Perché la palla Prima tocca una parte Del corpo E poi il braccio Che è staccato Dal corpo È salutato al Milan? Perfetto È salutato anche la Lazio È più semplice Così ragazzi Si muore Più semplice Così si muore È salutato al Milan? È salutato anche la Lazio Semplice Chissà perché Non è salutato La Lazio Contro l'Inter Ecco Questa è la vera domanda Forse perché Era l'Inter Appunto Fatto sta Ragazzi Che 3-0 Anche se non c'è il rigore Comunque 2-0 Non sarebbe Canavano niente Sassuolo ha giocato Una partita di merda Lazio-Juventus Allora Qui ci sono Due situazioni Diciamo Da analizzare Ovvero Il rigore È non dato La Juventus E il rigore È non dato La Lazio Perché sì In Graziano Hanno protestato Per l'intervento Di Benassia Gli Juventini Hanno protestato Per l'intervento Di Leiva Su Di Bala Allora Juventini Se voi mi dite Che Questo qui È calcio di rigore Allora Anche questo È calcio di rigore Più semplice Così si muore Ragazzi È un intervento Identico Anzi Secondo me Questo è perfino Più netto Di quello Su Di Bala Visto che il risultato In un'occasione Non cambia Mentre in un'altra Occasione Cambierebbe Allora Due punti rubati Perfetto Va bene così Va bene così Secondo me Quello di Di Bala Non c'è Perché Di Bala Va proprio A cercare il contatto Mentre Anderson Non si accorge Proprio Che Chi è Non sa Gli stava arrivando In contro Mentre invece Di Bala Va incontro A Leiva E questa è la differenza Ragazzi Che Di Bala Va incontro A Leiva Di Bala In possesso Palla va incontro A Leiva E Leiva Va incontro A Di Bala Mentre invece Nell'altra occasione C'è Don Sa L'unico che va incontro L'altro È Don Sa Che va incontro A Felipe Anderson Quindi Secondo me Personalmente In uno è calcio di rigore In un altro no Però Se gli Juventini Mi dicono Che questo è il calcio di rigore Allora è il calcio di rigore Anche questo Due punti rubati Alla Lazio È così che funziona Più semplice Così si muore Ragazzi Poi Spostiamoci All'ultimo Cagliari-Lazio Perché visto che abbiamo Già parlato Lazio-Bologna Parliamo di Cagliari-Lazio Allora Qui c'è una Una stranezza Ovvero che l'arbitro Non è andato a controllare Il VAR In occasione di rigore Per la Lazio Mentre invece È andato a controllare Il VAR In occasione di rigore Per il Cagliari A parte il fatto Che ci ha messo 5 minuti per controllare E molti sono anche Protestati per il recupero Di 5 minuti Ragazzi Ci ha messo 8 minuti Per controllare Un intervento C'è capito? 8 minuti Il rigore su Immobile Mi sembra abbastanza netto Anche perché Ci sono due giocatori Che gli fanno Il sandwich E come potete vedere Dal replay Che vi mostro In alto a sinistra È il rigore netto È il rigore netto Cioè quello è il rigore Perché cosa può fare Immobile? Cosa può fare? In mezzo a due In mezzo a due C'è il contatto Di uno o dell'altro Il calcio di rigore Ma il rigore Per il Cagliari Ragazzi Allora parliamo di questo Il rigore per il Cagliari Non c'è Lo sapete perché penso Perché il possesso della palla Ce lo ha Luis Felipe E non Pavoletti Luis Felipe è in possesso Della palla Mentre Pavoletti La palla Non la tocca neanche Luis Felipe Che viene in corsa Per prendere il pallone Fa cadere Luis Felipe Calcio di punizione Per la Lazio Allora lo so che Sembrerebbe Insomma Come primo impatto Sembrerebbe Netto calcio di rigore Per il Cagliari Ma ragazzi Il possesso della palla Ce l'ha Luis Felipe Luis Felipe è in possesso Della palla Anche se non la tocca Comunque lui è davanti Alla palla E la protegge Poi mette la gamba E Pavoletti Gli fa cadere la gamba Cioè gli fa cadere la gamba Ragazzi Se quello di ribala Mi dite voi Che è calcio di rigore Calcio di rigore Allora questo Calcio di punizione Per la Lazio È calcio di punizione Per la Lazio Perché È lo stesso identico Intervento Lo stesso identico Intervento Pavoletti La palla Non la tocca Non la tocca È Luis Felipe Che è più vicino Alla palla Però ragazzi Ovviamente Questo è aperto A interpretazioni E sto dando Le mie opinioni Rispondendo All'ultima domanda Ragazzi Anzi Prima vi dico una cosa Perché molti hanno detto Eh ma la Laffio È la squadra Con più rigori A favore Quindi Che vi lamentate a fare Allora Primo no Non è così Quindi anche i dati Vi hanno smentito La Lazio Non è la squadra Con più rigori A favore Perché c'è il Sassuolo Che ne ha Anche se trasformati Solo tre Ne ha tirati nove Di rigori Però è vero Che la Lazio Ne ha tirati otto Di rigori Ma ne ha subiti Anche otto Cioè La Lazio Otto rigori a favore Otto contro E tra l'altro Tra l'altro Prima del derby La Lazio Nelle prime dieci giornate Aveva avuto sei rigori A favore Nelle ultime Diciannove Due rigori a favore Nelle ultime Diciannove giornate Due rigori a favore Per la Lazio Due rigori a favore Contro la Sassuolo E contro la Roma Cioè se Se le diamo il derby Ragazzi Nelle ultime Diciotto giornate La Lazio ha avuto Un rigore a favore Cioè da quando La Lazio è arrivata In zona Champions Ha avuto Due rigori a favore Due rigori a favore Quindi non dite cazzate Per favore Non dire cazzate Non le dite le cazzate Perché poi Roma e Inter Hanno avuto sei rigori a favore Ciascuno L'Inter ne ha avuti Due contro La Roma Quattro contro La Lazio invece Otto contro Controllate i dati Ragazzi Cioè non è che Mi sto inventando cazzate Questi sono dati Sono dati Statistici Non dite cazzate Allora Rispondendo alla domanda Cioè Due rigori In un intero girone Due rigori In 19 partite Vabbè Rispondendo alla domanda Ragazzi La Lazio è stata penalizzata Sì ma non tanto Come dicono certi razziali Non tanto Come dicono certi razziali Perché è vero Il Milan ha segnato Un gol di mano E già questo è abbastanza Scandaloso Con la tecnologia Però la partita Sarebbe potuto andare Come Cioè Non si sa Come sarebbe potuto andare Ragazzi Il Milan avrebbe comunque Potuto vincere Cos'altro Sì Lazio Juventus Lazio Juventus Cagliari Lazio Lazio Bologna Lazio Torino Queste sono Le quattro partite Dove vedo La Lazio penalizzata Lazio Ferentina Ve l'ho detto Ragazzi Cioè Lazio Il rigore c'era Secondo me Roma Lazio È vero Forse Cosa si è buttato Comunque c'era un altro calcio di cuore A favore della Roma Bisogna essere obiettivi Lazio Torino Lazio Cagliari Cagliari Lazio Lazio Bologna Lazio Juventus Queste sono le quattro partite Dove la Lazio Ha subito ingiustizie Quindi Non penalizzata 16-17 punti Ragazzi Sono semplicemente 7-8 punti La Lazio in questo momento Dovebbe avere 7-8 punti in più Questo non toglie il fatto Che la Lazio Non è l'unica squadra Che è stata penalizzata Con il VAR Quest'anno Sì Probabilmente È l'unica squadra Tra le prime 6 Che è stata più penalizzata Col VAR Però insomma Se ricordiamo Un Roma-Inter Della seconda giornata Di campionato Il rigore su Perotti Avrebbe potuto cambiare tutto In questo momento L'Inter per esempio Era ancora quinta Se quel rigore fosse stato dato E trasformato L'Inter quinta Era Lazio quarta E la Roma Già tranquillissima In zona Champions League Comunque ragazzi Ditemi cosa pensate Di questa rubrica Che ho intenzione Di riportare sul canale In altre occasioni Mettete un like Appunto Se vi è piaciuto Commentate Per condividere Le vostre opinioni Sull'argomento Di giornata E iscrivetevi al canale Se per caso Non l'avete ancora fatto Ragazzi Dal Vargelo Secondo Giovanni Ci vediamo